Sono le 23 e due minuti e questa è Radio Zaine, frequenza 693 in onde medie. Siamo in diretta nazionale per accendere i microfoni ai ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia. Musica, rap, indie e pop, fantacalcio, digital news e approfondimenti legati al mondo dell'attualità. Con Chiara Di Paola e Riccardo Cotumaccio. State ascoltando Radio Zainez, India Literacy Network. Grazie a tutti.